Stop agli Euro 5 Diesel. Dal 1 ottobre del 2020 potrebbe essere chiesto a tutti i cittadini di lasciare in garage le macchine che hanno comprato dal settembre del 2009 al settembre del 2015. Quindi si tratta di vetture che possono avere meno di 5 anni e che verranno sacrificate sull'altare dell'ambiente, principio nobilissimo, che però in questo caso è, se non altro, discutibile e discusso. C'è la consapevolezza che non è la direzione giusta perché comunque il lockdown ha dimostrato che l'emissione delle polveri sottili non dipende tanto dalle auto ma da tantissimi altri fattori. C'è la consapevolezza che non si può chiedere ai cittadini del Veneto ulteriori sacrifici in un anno così difficile e soprattutto che non possiamo puntare sul trasporto pubblico. Quindi stiamo cercando di resistere chiedendo al Ministero un intervento importante in questa materia e di far sentire in Europa la voce della pianura padana in generale. Abbiamo bisogno di misure strutturali, non di bloccare auto nuove. A parlare è Simona Siotto, assessore all'ambiente di Vicenza che, con gli altri comuni capoluogo veneti, sta portando avanti una vera e propria opposizione al blocco degli Euro 5 Diesel previsto nell'accordo di Bacino Padano della prossima stagione. Le misure di contenimento atmosferico per l'inverno sono in discussione proprio in questi giorni con il Comitato di indirizzo e sorveglianza della Regione Veneto che porterà le riflessioni raccolte sul tavolo aperto con Lombardia, Piemonte ed Emilia. Non voglio chiedere ai cittadini vicentini ulteriori sacrifici, soprattutto quando ormai sono consapevole che le emissioni delle polveri sottili dipendono più da altri fattori, dall'agricoltura e dalle caldaie e non certo dalle auto nuove. Tanto più che tutto il sistema di deroghe poi fa sì che anche quelle che sono le misure legate al blocco del traffico poi abbiano effettivamente tantissime eccezioni. Insomma, bloccare gli Euro 5 Diesel, costringere i cittadini a lasciare in garage o a vendere la propria macchina può essere una buona notizia per il mercato automobilistico e non sarebbe un problema per le classi più ambienti. Ma chi soffre la crisi post-Covid non può permettersi questo lusso. L'ambiente oggi ha bisogno di soluzioni non ideologiche ma reali, funzionali, efficaci, strutturali. E qui bisogna proprio lavorare con l'Europa su quello che è il senso di questa disposizione.